Salve ragazzi Benvenuti ragazzi in questo nuovo video Oggi volevo presentarvi un prodotto E' questo qua lo potete trovare su Amazon A circa 17€ E ragazzi è fantastico Adesso lo andremo ad unboxare In verità io già ne ho montati due fuori Che poi magari adesso Dopo vi faccio vedere Nella scatola troviamo Appunto il faro E il paletto per conficcarlo nel terreno Nel caso in cui lo volessimo mettere per terra Manuale di istruzioni e tasselli Da questo lato c'è il pannellino solare All'interno di questo pannellino Troviamo la batteria Che sinceramente non so nemmeno Da quanti mAh? 2000 mAh Quindi diciamo che poco meno Di una batteria di un cellulare Magari di fascia economica E qui c'è la staffetta Che possiamo utilizzare Per montarlo in una parete La parete è di 10W Ovviamente il voltaggio è di 5V E in pratica abbiamo un tastino dietro il pannello solare Che ci permette di fare diverse funzioni Con un tocco abbiamo il faro Che illumina il nostro spazio al 100% Quindi vuol dire che avremo il 100% dei led accesi La batteria di questa modalità Dura circa 8 ore In modo che così Magari di notte Potresti illuminare tutto il vostro balcone Il vostro pianetto L'altra modalità è al 60% Ovvero utilizza il 60% Dell'illuminazione del faretto Facendo un altro tocco C'è la modalità al 30% O al 30% della luce E poi abbiamo la luce strobo Basta E l'SOS Perché nel caso in cui Non lo so Nel balcone ci fosse bisogno di fare l'SOS E qui c'è l'SOS Come lumen sono 6500k Non so se si stanche la versione con la luce gialla Però sinceramente a me la luce bianca piace tantissimo La posso utilizzare pure come luce per Per fare un set Per registrare Allora vi faccio vedere dove l'ho montato Come l'ho montato Vi lascerò il link in descrizione ovviamente per acquistarlo Su Amazon a 17€ Allora vedete c'è il pannellino solare Puntato verso la luce E il faretto poi appoggiato a muro Che illumina Dovrebbe illuminare tutta questa parte del balcone Quindi ragazzi se il video vi è piaciuto Vi invito a lasciare un bel mi piace sotto questo video Ci vediamo al prossimo video E ciao Avivata 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 Grazie.